I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, concorso in furto aggravato di energia elettrica, detenzioni illegale di munizioni, di tritolo e di silenziatore per armi da fuoco, Tommaso Armillieri di San Mauro Castelverde, classe 1953, Leonardo e Vito Casarrubia, padre e figlio palermitani, rispettivamente classe 53 e 89. Venerdì scorso i militari dell'arma, durante un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, transitando a San Mauro Castelverde in contrada Tiberio, hanno notato un insolito via vaida, una strada di accesso ad un terreno ed hanno verificato che tre uomini entravano all'interno di un'abitazione isolata. I militari hanno scoperto che i tre, all'interno di un magazzino di pertinenza del casolare di Tommaso Armilleri, avevano allestito una vera e propria piantagione in serra, indoor, di sostanza stupefacente del tipo marihuana, munita di ventilatori aspiratori, lampade alogene, il tutto predisposto con un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della società e distribuzione intervenuti sul posto. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti 400 grammi di marihuana, 2 grammi di cocaina, 1300 piante di sostanze stupefacenti dell'altezza media di 70 centimetri, 10 aspiratori, 20 ventilatori, 18 lampade alogene. La droga è stata sottoposta a campionamento per la successiva distruzione a cura della sezione investigazione scientifica e del nucleo investigativo di Palermo. Inoltre in un magazzino adiacente all'abitazione sono stati trovati, occultati dentro un armario metallico, 150 grammi di tritolo, un silenziatore per arma da fuoco e 18 munizioni calibro 12, in più anche una carabina. Sul posto quindi è stato richiesto l'intervento del personale degli artificieri antisabotaggio nucleo investigativo di Palermo e del nucleo cinofili carabinieri che ha verificato l'assenza di ulteriore materiale esplosivo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale Antonino Burrafato di Termini Merese.